Lorenzo Spolverato e Favier Martinet sono senza dubbio due dei protagonisti dell'attuale edizione del Grande Fratello, ma prima di incontrarsi nella casa più spiata d'Italia, il modello milanese e il pallavolista argentino hanno condiviso l'esperienza a uomini e donne. Come rivelato da Dejanira Marzano, infatti, i due gieffini hanno persino corteggiato la stessa tronista, ovvero Sara Tozzi. Nell'edizione 2017-2018 del dating show di Maria De Filippi, Lorenzo arrivò in studio per un incontro al buio, e a sedere sul trono, all'epoca, c'erano Mara Fasone e Teresa Langella. L'anno successivo, Spolverato ha corteggiato Sara Tozzi, e proprio durante il trono di quest'ultima è arrivato anche Favier nelle vesti di corteggiatore. Come è noto, Martinet venne mandato quando alla redazione arrivò una segnalazione circa una sua frequentazione con una donna. Martinet ammise tutto, e si beccò anche una ramanzina dalla De Filippi. Oggi come allora, i due si sono contesi le attenzioni di una fanciulla. A uomini e donne era Sara Tozzi, al grande fratello è Shai la gatta, con quest'ultima che, però, dopo un lungo tira in molla, e dopo aver di fatto preso in giro Javier, ha definitivamente virato su Lorenzo.